Qual è la definizione unica delle banche estere? Qual è la raccolta tradizionale o aprendo una serie di sportelli come ha fatto Barclays oppure comprando una rete di sportelli già operanti come ha fatto Cariparma. Esistono poi banche estere che sono venute in Italia solo per raccogliere la grossa clientela, quella nell'ordine dei milioni di euro, come è il caso di UBS o di Societe Generale. Terzo gruppo di banche estere sono le cosiddette banche d'affari che svolgono attività di advisory e investment banking e cioè svolgono consulenza per acquisizioni o fusioni societarie. Un altro gruppo sono le banche depositarie che compran dalle banche italiane i settori amministrativi dei titoli. Un ultimo gruppo sono le banche di stati sovrani come la banca cinese della Cina Popolare che ha appena aperto e che si limita ad assistere gli operatori nazionali senza nessuna intenzione di fare concorrenza sulla nostra piazza. Per quanto riguarda la presenza sindacale si va da quella tradizionalmente strutturata nelle banche grosse a banche dove invece non si riesce a fare neanche la RSA. Seguire le banche estere è gravoso non solo perché i decisori sono all'estero perché ogni volta si parla solo con intermediari ma anche per l'oggettiva difficoltà di inquadrare correttamente il ramo di attività di queste banche. Una prima classificazione delle banche che si trovano in questo stato di difficoltà va fatta tra le banche che caricano i costi di apertura sul nostro paese nei bilanci della realtà locale. È ovvio che in questo caso queste banche presentano bilancio in passivo per molti anni perché finché non scade l'ammortamento del costo è difficile anche solo contrattare un premio aziendale perché in teoria in queste banche magari pur andando bene presentano bilancio in passivo a causa dei costi di ammortamento dell'apertura. Mentre invece altre banche fanno scelte diverse e caricano i costi di apertura sulla casa madre per cui basta che ci sia un refolo di vento e riescono a presentare bilanci positivi. Un secondo gruppo di banche sono quelle che sono presenti invece da anni sul nostro terreno che però invocano l'articolo 18 per esuberi di personale. E in questo caso spesso se hanno una strutturazione a livello nazionale cercano di chiudere prima le filiali più piccole. Poi un terzo gruppo di banche che incontriamo nei casi di crisi sono quelle che fanno una riduzione tale da comunque permettere il loro permanere sul territorio nazionale a quelle invece che fanno una riduzione che preannuncia la chiusura. Evidentemente di fronte alla chiusura la situazione del sindacato è la più difficile perché c'è ben poco da contrattare se non le incentivazioni all'esodo. Capire dalla lettera che manda la banca estera quando dichiarano una situazione di esuberi che cosa ci sia dietro veramente è una cosa complicata, molto può aiutare il fatto di andare a vedere i bilanci. Se la banca diciamo prima vuole chiudere si apre un problema specifico. Nel nostro settore è stato fatto un accordo con ABI che assicura grossomodo una specie di mobilità. Un esempio invece che si può fare di una crisi aziendale per capire magari anche con tutti i suoi paradossi è quella di UBS. Due o tre anni fa a febbraio chiama a raccolta tutti i suoi dipendenti italiani, fa un meeting e informa che i risultati sono splendidi. Salvo che a giugno Zurigo decide di dichiarare un esubero del 20% di personale da attuarsi in ogni singolo paese. Per cui questi colleghi vengono informati, quattro mesi dopo essersi sentiti dire che la banca andava benissimo, che ci sarà una dichiarazione di esubero per più di 100 persone. Questi colleghi di colpo scoprono l'importanza del sindacato per cui si iscrivono in massa al sindacato. Interveniamo, cominciamo a fare una trattativa. Contrattare riduzione di organico in un'azienda che va bene vuol dire che poi per esempio una volta mandate via le persone l'azienda ci è venuta a chiedere possibilità di splafonare rispetto alle quantità di ore straordinarie lavorate piuttosto che nella prestazione lavorativa dei quadri perché evidentemente andando bene con quel personale ridotto non ce la faceva più ad andare avanti. Non abbiamo subito negli ultimi anni grosse crisi come sono successe nei paesi anglosassoni in particolare rispetto a banche che addirittura hanno dovuto chiudere da oggi al domani perché le nostre banche sono soggette a un monitoraggio da parte di Banca Italia. Questo lavoro Banca d'Italia cerca di farlo anche con le banche estere e per cui anche rispetto alle banche estere le Banche d'Italia hanno un comportamento estremamente positivo in linea con quella che è sempre stato il suo comportamento corretto nei corsi dei decenni da quando è stata fondata. Per cui è un plauso anche a Banca Italia che troviamo spesso come alleata in queste trattative nel senso che pur non essendoci rapporti né ufficiali né informali con Banca d'Italia però spesso quando le banche dichiarano situazioni di crisi, Banca d'Italia svolge un ruolo preeminente per capire se effettivamente questa crisi c'è e perché si è originata e evidentemente per evitare che si riproponga nel futuro. Grazie a tutti!